Musica 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 Per sorgere il alto d'arco, dovremo magari in ta' comunale di Zigao in da manda scontrati due agricoltori due i Vradelli, Christophe e poi le Piezza, che hanno ribbiato la spuntazione vamele andiamo subito in un ricetta in zio e in due Christophe da mandare e sopra ci. Christophe, salute. Salute. Allora, siamo qui in un'apertura di vostra spostazione, in cui ci sono i borghi, qui sono i borghi che sono capiati in sui sedumi, spiegateci. Allora, la maggior parte dei borghi sono capiati qui in un castagnetto, in un liceo di Taro, ma lì, e le pegagui siamo un'anzi di tomba i borghi, perché se pegagui dal mese d'autrui, sino dal mese di novembre, la maggior parte della zona alimentazione sono diande e castagni, allora, questi piccoli punti dove noi lampiamo sempre un'ipoca di sacchi d'alimento, per mantenere i borghi e sempre arrivare là vicino a Strarre, che non poter riportare tutto l'anno dell'inverno a un tombatore, allora, per mantenere i borghi che non fosse nemmica troppo sparte nell'asploitazione. Voi dire che se non si lavoravano con i borghi di razza corsa, perché? Come si vanno? A me dice che noi abbiamo sempre provato un'ostradio divamida, e avanti a questi borghi, sappiamo che tra la seconda borghi, che è più conformata con un borghi, e tanto c'è una specie di matrice davanti al principio al vino. Quando voi lavorate in una gara, in una certa formazione di prodotti, sappiamo quanto c'è la gara un'agrope in usale, quanto c'è la gara un'onzo in usale, per avere la qualità che noi ricerchiamo e che i nostri clienti ricercano. Allora, tanto è muovata una prova, ma non c'è mai apportato qualcosa in più, ma piuttosto è arrivata qualcosa in meno, perché avevano un terzo di porc in più per avere la stessa quantità di charcuteria lampando la stessa mondiale. Allora, un modello economico di una nostra esploitazione non era mica valevole. Dopo i primi d'un bere, a Ghernes era piazza di Stusecadòio antico, un luogo importantissimo in la fabbricazione della charcuteria. Gli stessi porc, con gli stessi castagnetti, con gli stessi arrazzi, con gli stessi paesi, la charcuteria ha un gusto differente, buono, ma questo per me è un'identità di vendere più. Il locale dà un gusto a roba ed è forse un elemento che ha permesso al borgadio di rigeare un premio, quello dei più buoni artisti di Francia. Sapete, quando avete mica una labellizzazione di altri prodotti, ho trovato un'altra maniera di vari nostri prodotti. e qui c'è un'altra maniera. Avete i mercati che valorizzate i nostri prodotti, un'epoca di industriale di qualità, che faccia una promozione di vostri prodotti, è importante, un'epoca di clienti un po' riconosciuti anche per, ma a safari partecipare di nuovo a safari. Abbassioni di animali si è trasmessi nella famiglia piazza. pollo e lo arrivia dei uacchi. Una onda di 80 animali alle uacchi in bradio e gacchi. Vendo i viti di ciladio, viti di sani in carcassi, perché qui in Alto Taro è difficile di andare in gacette, di andare in Europa a porta e tutto, perché come in tutte le regioni di ciladio, di montagna c'è poco gente, e vengono le temi che permette di di andare in vita e di andare in gara e di antebraccia. Quindi vendiamo a certi boucheries in Aiaccio, a Lalle o a certi supermercati come Leclerc. Sei sempre a Oumanda per sviluppare i gorsi. Allora a Oumanda soffrimo di ciladio di una concorrenza del continente, come molti pastori di ciladio, che dovessi per l'angeli, che dovessi per iacchi, perché soffrimo di una specie concorrenza. C'è un mondo di gara e del continente che giugna perché non pagano mica forze il trasporto. C'è una specie dotazione di servizi pubblici che calitaxano tutti i prodotti continentali, i prodotti di prima necessità, i pasti, l'utile, l'olio e la carne. C'è un po' di ciladio e tutto ciò che è alimentazione per l'animal è taxato a un prezzo che è troppo alto. C'è un po' di ciladio e po' di ciladio, ma non c'è un po' di ciladio? C'è un po' di ciladio? C'è un po' di ciladio che c'è la grossa distribuzione. Chi duas comprare lo meglio? Lo meglio! Grazie a tutti.